VANGELO SECONDO GIOVANNI In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il Verbo. Questi era in principio presso Dio. Tutto per mezzo di Lui fu fatto, e senza di Lui non fu fatto nulla di ciò che è stato fatto. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce nelle tenebre brilla, e le tenebre non la compresero. Ci fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma per rendere testimonianza alla luce. Era la luce vera, che illumina ogni uomo, quella che veniva nel mondo. Era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, e il mondo non lo riconobbe. Venne nella sua proprietà, e i suoi non lo accolsero. A quanti però lo accolsero, diede il potere di divenire figli di Dio. A coloro che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio, furono generati. E il Verbo si fece carne, e dimorò fra noi, e abbiamo visto la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni rende testimonianza a Lui e proclama Questi era colui di cui dissi Colui che viene dopo di me ebbe la precedenza davanti a me, perché era prima di me. Della sua pienezza, infatti, noi tutti ricevemmo, e grazia su grazia. Poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità divennero realtà per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha visto mai. L'unigenito Dio che nel seno del Padre, Egli lo ha rivelato. Ora, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli mandarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per domandargli «Tu chi sei?» e professò, e non negò, e professò «Io non sono il Cristo». Gli domandarono «Chi sei tu allora? Sei Elia?» Egli dice «Non lo sono. Sei il profeta?» Rispose «No». Gli dissero allora «Chi sei? Che possiamo dare una risposta a chi ci ha inviati? Cosa dici di te stesso?» Affermò «Io sono voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Esaia». Essi erano stati mandati dai farisei. Costoro gli domandarono ancora «Perché dunque battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Rispose loro Giovanni «Io battezzo con acqua. In mezzo a voi sta colui che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, di cui non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo». Questi fatti avvennero a Betania, al di là del Giordano, dove c'era Giovanni che battezzava. L'indomani vede Gesù venirgli incontro e dice «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui di cui ho detto, colui che viene dopo di me, ebbe la precedenza davanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma proprio perché fosse rivelato a Israele, sono venuto a battezzare con acqua». Poi Giovanni testimoniò «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba, e si fermò sopra di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse «Colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui, è lui che battezza con lo Spirito Santo. E io l'ho visto e ho testimoniato che lui è il figlio di Dio». L'indomani Giovanni si trovava ancora là con due dei suoi discepoli. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, egli dice «Ecco l'agnello di Dio». I due discepoli lo sentirono parlare così e seguirono Gesù. Gesù, voltosi e visti i due discepoli che lo stavano seguendo, dice loro «Che cercate?». Gli dissero «Rabbì», che tradotto significa «Maestro, dove stai?». «Venite e vedrete», disse loro. Andarono e vidono dove stava, e quel giorno stettero presso di lui. Era circa l'ora decima. Andrea, fratello di Simone Pietro, era uno di quei due che avevano ascoltato Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli trova anzitutto suo fratello Simone e gli dice «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto significa Cristo. Lo condusse a Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa», che si traduce Pietro. L'indomani decise di partire per la Galilea e trova Filippo. Gesù gli dice «Seguimi». Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trova Natanaele e gli dice «Quello di cui hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, noi l'abbiamo trovato. Gesù, figlio di Giuseppe da Nazareth». Da Nazareth gli disse Natanaele «Può venire qualcosa di buono?» Gli dice Filippo «Vieni e vedi». Gesù vide Natanaele venirgli incontro e dice di lui «Ecco un autentico israelita in cui non c'è falsità». Gli dice Natanaele «Donde mi conosci?» Gli rispose Gesù «Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico». Gli rispose Natanaele «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, credi? Vedrai cose ben più grandi». Poi soggiunse «In verità, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e discendere sul figlio dell'uomo». Tre giorni dopo ci fu una festa di nozze in Cana di Galilea e c'era là la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice «Non hanno più vino». Le dice Gesù «Che vuoi da me, oh donna? Non è ancora venuta la mia ora». Sua madre dice ai servi «Fate quello che vi dirà». C'erano là sei giare di pietra per le abluzioni dei giudei, capaci da due a tre metrete ciascuna. Dice loro Gesù «Riempite le giare di acqua». Le riempirono fino all'orlo. Dice loro «Ora attingete e portatene al direttore di mensa». Essi ne portarono. Come il direttore di mensa ebbe gustata l'acqua divenuta vino, egli non sapeva ad onde veniva, mentre lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli dice «Tutti presentano dapprima il vino buono e poi, quando si ebrilli, quello scadente. Tu hai conservato il vino buono fino ad ora». Questo inizio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e rivelò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao, lui, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e rimasero là non molti giorni. Era prossima la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio i venditori di buoi, di pecore e di colombe e i cambiavalute seduti. E fattasi una frusta di funicelle, scacciò tutti dal tempio, anche le pecore e i buoi. Disseminò il denaro dei cambiavalute, rovesciò i banchi e disse ai venditori di colombe «Portate via questa roba di qui e non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». Si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto «Lo zelo della tua casa mi divorerà». Gli risposero allora i Giudei e gli domandarono «Quale segno ci mostri per agire così?». Gesù replicò loro «Distruggete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere». Dissero allora i Giudei «In 46 anni fu costruito questo santuario e tu in tre giorni lo farai risorgere». Egli però parlava del santuario del suo corpo. Perciò quando risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù. Mentre egli si trovava a Gerusalemme durante la festività della Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni che egli faceva. Gesù però diffidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che altri testimoniasse sull'uomo. Egli infatti sapeva ciò che vi era nell'uomo. C'era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei Giudei. Questi venne da lui di notte e gli disse «Rabbì, noi sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui». Rispose Gesù «In verità, in verità ti dico, se uno non è nato dall'alto non può vedere il regno di Dio». Gli dice Nicodemo «Come può un uomo nascere se è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose «In verità, in verità ti dico se uno non è nato dall'acqua e dallo spirito non può entrare nel regno di Dio. Il nato dalla carne è carne e il nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti che ti abbia detto voi dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole senti il suo sibilo ma non sai d'onde viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito». «Come possono avvenire questi fatti?» riprese Nicodemo. Rispose Gesù «Tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose?» «In verità, in verità ti dico noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se non credete quando vi ho detto cose terrene come crederete qualora vi dica cose celesti? Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo che è in cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto così deve essere innalzato il figlio dell'uomo affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il figlio suo unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio infatti non mandò il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non viene condannato chi non crede in lui è già condannato perché non ha creduto nel nome del figlio unigenito di Dio. Ora il giudizio è questo la luce venne nel mondo ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie. poiché chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano smascherate colui invece che fa la verità viene alla luce perché si riveli che le sue opere sono operate in Dio. In seguito Gesù e i suoi discepoli vennero nel territorio della Giudea e lì si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Ennon vicino a Salim perché là le acque erano abbondanti e la gente accorreva e si faceva battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato messo in prigione. Sorse allora una disputa fra i discepoli di Giovanni e un giudeo a proposito della purificazione. Andarono da Giovanni e gli dissero Rabbì, colui che era con te al di là di Giordano cui tu hai reso testimonianza ecco che battezze tutti vanno da lui. Rispose Giovanni non può un uomo prendere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto non sono io il Cristo ma sono colui che è stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo ma l'amico dello sposo che gli sta vicino e l'ascolta è ripieno di gioia per la voce dello sposo. Questa gioia che è la mia ora è perfetta. Egli deve crescere io invece diminuire. Colui che viene dall'alto è sopra di tutti colui che è dalla terra appartiene alla terra e parla da uomo della terra. Colui che viene dal cielo è sopra di tutti. Egli testimonia ciò che ha visto e udito ma nessuno accoglie la sua testimonianza. Colui che accoglie la sua testimonianza ratifica che Dio è verace. Infatti colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio poiché dà lo spirito senza misura. Il padre ama il figlio e ha rimesso tutto nella sua mano. Chi crede nel figlio ha la vita eterna chi invece disobbedisce al figlio non vedrà la vita ma l'ira di Dio è sopra di lui. Quando Gesù seppe che i farisei avevano sentito che egli faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni per quanto non fosse Gesù stesso che battezzava ma i suoi discepoli lasciò la Giudea e ritornò verso la Galilea. Egli doveva passare per la Samaria. Ora arriva ad una città della Samaria chiamata Sicar vicino al podere che Giacobbe aveva dato al figlio suo Giuseppe. C'era là il pozzo di Giacobbe. Gesù affaticato come era dal viaggio si era seduto sul pozzo era circa l'ora sesta. Viene una donna della Samaria ad attingere acqua le dice Gesù dammi da bere. I discepoli infatti se ne erano andati in città a comperare da mangiare. Gli dice la donna samaritana come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Le rispose Gesù Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere tu ti avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna Signore non hai neppure un secchio e il pozzo è profondo da dove prendi dunque l'acqua viva? Forse tu sei più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui e i suoi figli e il suo bestiame. Le rispose Gesù Colui che beve di quest'acqua avrà ancora sete Colui invece che beve dell'acqua che gli darò io non avrà mai più sete ma l'acqua che gli darò diverrà in lui una sorgente di acqua che zampilla verso la vita eterna. Signore gli dice la donna dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non debba più venire qui ad attingere. Le dice va chiama tuo marito e ritorna qui. Non ho marito gli rispose la donna. Le dice Gesù hai detto bene non ho marito perché hai avuto cinque mariti e ora quello che hai non è tuo marito quanto a questo hai detto il vero. signore dice la donna vedo che tu sei un profeta i nostri padri adorarono su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Le dice Gesù credimi donna che viene un'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre. voi adorate ciò che non conoscete noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei ma viene un'ora ed è adesso in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità infatti il padre cerca tali persone che l'adorino Dio e spirito e coloro che lo adorano in spirito e verità devono adorarlo. Gli dice la donna so che deve venire un messia che significa Cristo quando quegli verrà ci annuncerà ogni cosa le dice Gesù lo sono io che ti parlo a questo punto arrivarono i suoi discepoli e rimasero meravigliati che parlasse con una donna nessuno però disse che vuoi tu da lei oppure perché parli con lei la donna intanto abbandonò la sua giara andò in città e disse alla gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto non sarà forse lui il Cristo uscirono dalla città e andavano verso di lui nel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo rabbì mangia ma egli disse loro io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete i discepoli dicevano fra loro che qualcuno gli abbia portato da mangiare dice loro Gesù mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera non dite voi ancora quattro mesi e viene la mietitura ecco vi dico alzate i vostri occhi e osservate i campi sono bianchi per la mietitura già il mietitore riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna affinché il seminatore goda insieme al mietitore in questo caso infatti è vero il proverbio diverso è chi semina da chi miete io vi ho mandati a mietere ciò per cui voi non avete faticato altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che aveva attestato mi ha detto tutto ciò che ho fatto quando i samaritani arrivarono da lui lo pregavano di rimanere presso di loro e vi rimase due giorni furono ancora più numerosi coloro che credettero per la sua parola alla donna dicevano non crediamo più per il tuo discorso noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che è veramente lui il salvatore del mondo dopo questi due giorni ripartì di là per la Galilea Gesù stesso infatti aveva testimoniato un profeta non gode alcun credito nella propria patria ora quando Gesù arrivò in Galilea i Galilei lo accolsero bene avendo visto tutte le cose che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa poiché anch'essi erano andati alla festa Gesù tornò dunque a Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino c'era un funzionario regio il cui figlio era malato a Cafarnao avendo egli saputo che Gesù era venuto dalla Giudea alla Galilea si recò da lui e lo pregava di scendere e guarire il figlio suo perché stava per morire Gesù gli disse se non vedete segni e prodigi voi non credete gli dice il funzionario regio scendi prima che il mio ragazzo muoia gli dice Gesù va tuo figlio vive quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e partì mentre egli già scendeva i suoi servi gli andarono incontro dicendogli che suo figlio viveva allora chiese informazioni sull'ora in cui aveva cominciato a stare meglio gli risposero la febbre lo lasciò ieri all'ora settima il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto tuo figlio vive e credette lui e la sua famiglia al completo Gesù compì questo secondo segno ritornando dalla Giudea alla Galilea dopo questi avvenimenti c'era una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme a Gerusalemme presso la porta delle pecore c'è una piscina chiamata in ebraico Bethesda con cinque portici sotto questi portici giaceva una moltitudine di infermi ciechi zoppi e invalidi che aspettavano il movimento dell'acqua un angelo infatti ad intervalli scendeva nella piscina e agitava l'acqua il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia c'era là un uomo infermo da trentotto anni Gesù vistolo disteso e saputo che si trovava già da molto tempo in quello stato gli dice vuoi guarire? gli rispose l'infermo signore non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua viene agitata e mentre io mi avvio per andare un altro vi scende prima di me gli dice Gesù alzati prendi il tuo giaciglio e cammina l'uomo fu guarito all'istante prese il suo giaciglio e camminava ma quel giorno era sabato dicevano dunque i giudei al guarito è sabato e non ti è lecito portare il tuo giaciglio e gli rispose loro colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo giaciglio e cammina gli domandarono chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina ma colui che era stato guarito non sapeva chi era perché Gesù si era ecclissato grazie alla folla che c'era in quel luogo più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse ecco che sei guarito non peccare più perché non ti avvenga di peggio l'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che l'aveva guarito per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva queste cose di sabato ma Gesù rispose loro mio padre è all'opera fino ad ora ed anch'io sono all'opera per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo perché non solo violava il sabato ma diceva che Dio era suo padre facendo se stesso uguale a Dio Gesù rispose e diceva loro in verità in verità vi dico il figlio il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede il padre fare ciò infatti che fa lui lo fa ugualmente il figlio il padre infatti ama il figlio e gli mostra tutto ciò che egli fa ed opere più grandi di queste gli mostrerà in modo che voi ne rimaniate stupiti come infatti il padre risuscita i morti e dà la vita così anche il figlio dà la vita a coloro che vuole il padre infatti non giudica nessuno ma ha dato tutto il giudizio al figlio affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre colui che non onora il figlio non onora il padre che l'ha mandato in verità in verità vi dico chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non incorre nel giudizio ma è passato dalla morte alla vita in verità in verità vi dico viene un'ora ed è adesso in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e coloro che l'avranno ascoltata vivranno come infatti il padre ha la vita in se stesso così ha dato anche al figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di fare il giudizio perché è figlio dell'uomo non stupitevi di ciò viene un'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce e coloro che hanno fatto il bene ne usciranno per la risurrezione della vita coloro che hanno praticato il male per la risurrezione del giudizio io non posso fare nulla da me stesso come ascolto giudico e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato se io rendo testimonianza a me stesso la mia testimonianza non è valida c'è un altro che mi rende testimonianza e so che è vera la testimonianza che mi rende voi avete inviato una delegazione a Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità io però non accetto la testimonianza di un uomo ma dico questo perché voi siate salvati egli era la lampada ardente e splendente e vi siete voluti rallegrare per poco alla sua luce ma io ho l'altra testimonianza più grande di quella di Giovanni cioè le opere che il padre mi ha dato da portare a compimento queste stesse opere che io faccio mi rendono testimonianza che il padre mi ha mandato e anche il padre che mi ha mandato mi ha reso testimonianza voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto la sua figura e non avete la sua parola che rimane in voi perché voi non credete a colui che egli ha mandato voi scrutate le scritture perché per mezzo di esse pensate di avere la vita eterna sono proprio esse che mi rendono testimonianza ma voi non volete venire a me per avere la vita io non accetto la gloria dagli uomini ma io vi ho conosciuto non avete in voi l'amore di Dio io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi accogliete se venisse un altro nel suo proprio nome lo accogliereste come potete credere voi che vi glorificate gli uni gli altri e non cercate la gloria che avviene dal solo Dio non pensate che io vi accuserò davanti al padre il vostro accusatore è Mosè nel quale voi avete riposto la vostra speranza se infatti credeste a Mosè anche a me credereste perché di me egli ha scritto se non credete alle scritture di lui come crederete alle mie parole poi Gesù se ne andò dall'altra parte del mare di Galilea di Tiberiade lo seguiva molta gente perché vedevano i segni che faceva sui malati allora Gesù salì sul monte e lì si sedette con i suoi discepoli era prossima la Pasqua la festa dei Giudei Gesù alzati gli occhi e vista molta gente venire a sé dice a Filippo da dove potremo comperare pane per sfamare costoro questo lo diceva per metterlo alla prova egli infatti ben sapeva quello che stava per fare gli rispose Filippo 200 denari di pane non bastano per darne un pezzetto a ciascuno gli dice uno dei suoi discepoli Andrea fratello di Simone Pietro c'è qui un ragazzetto che ha 5 pani d'orzo e due pesci ma che cos'è questo per così tanta gente disse Gesù fateli sedere l'erba in quel luogo era abbondante si sedettero dunque gli uomini all'incirca 5.000 Gesù prese allora i pani e rese grazie li distribuì a coloro che erano seduti ugualmente fece dei pesci quanti ne vollero quando poi furono sazi dice ai suoi discepoli raccogliete i pezzi avanzati perché niente vada perduto fecero dunque la raccolta e riempirono dodici ceste di pezzi dei 5 pani d'orzo che erano rimasti a coloro che avevano mangiato visto il segno che aveva fatto quegli uomini dicevano questo è veramente il profeta che deve venire nel mondo ma Gesù saputo che stavano per venire rapirlo per farlo re si ritirò nuovamente sul monte egli solo quando fu sera i suoi discepoli discesero al mare e saliti su una barca salparno verso Cafarnao dall'altra parte del mare erano già calate le tenebre e Gesù non li aveva ancora raggiunti spirando un gran vento il mare era agitato dopo aver remato per circa venticinque trenta stadi videro Gesù camminare sul mare e avvicinarsi alla barca ed ebbero paura ma egli dice loro sono io non temete vollero allora prenderlo nella barca e la barca subito giunse al luogo cui erano diretti il giorno dopo la gente che stava al di là del mare vide che là non c'era che una sola barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca ma è che i suoi discepoli erano partiti da soli altre barche vennero da Tiberiade vicino al luogo dove avevano mangiato dopo che il Signore aveva reso grazie quando dunque la gente vide che là non c'era né Gesù né i suoi discepoli salì sulle barche e andarono a Cafarnao in cerca di Gesù trovatolo dall'altra parte del mare gli dissero rabbì quando sei arrivato qui rispose loro Gesù in verità in verità vi dico mi cercate non perché avete visto dei segni ma perché avete mangiato pani a sazietà operate non per il cibo che perisce ma per il cibo che rimane per la vita eterna che il figlio dell'uomo vi darà perché su di lui Dio Padre pose il suo sigillo allora gli dissero che cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio rispose loro Gesù questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato e gli dissero quale segno fai tu perché vediamo e crediamo in te che cosa operi i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto come sta scritto ha dato loro da mangiare un pane dal cielo disse loro Gesù in verità in verità vi dico non Mosè vi ha dato il pane dal cielo ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo quello vero il pane dal cielo infatti è colui che dal cielo discende e dà la vita al mondo gli dissero allora Signore dacci sempre questo pane Gesù disse loro io sono il pane di vita chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete ma io ve l'ho già detto mi avete visto e ancora non credete tutto ciò che mi dà il Padre verrà a me e chi viene a me non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato ora questa è la volontà di colui che mi ha mandato che nulla vada perduto di ciò che mi ha dato ma io lo risusciti nell'ultimo giorno questa è infatti la volontà del Padre mio che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna e io lo risusciti nell'ultimo giorno ma i giudei mormoravano di lui perché aveva detto io sono il pane disceso dal cielo e dicevano non è costui Gesù il figlio di Giuseppe di cui conosciamo il padre e la madre come può ora dire sono disceso dal cielo Gesù rispose loro non mormorate fra di voi nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno è scritto nei profeti saranno tutti istruiti da Dio chiunque ha ascoltato il padre e ha accolto il suo insegnamento viene a me non che alcuno abbia visto il padre se non colui che è da Dio lui ha visto il padre in verità in verità vi dico chi crede alla vita eterna io sono il pane della vita i vostri padri hanno mangiato nel deserto la manna e sono morti questo è il pane che discende dal cielo perché lo si mangi e non si muoia io sono il pane vivente disceso dal cielo se qualcuno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo i giudei allora discutevano fra di loro dicendo come può costui darci da mangiare la sua carne disse loro Gesù in verità in verità vi dico se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete la vita in voi chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno la mia carne infatti è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui come mi ha mandato il padre che è il vivente e io vivo grazie al padre così colui che si ciba di me anche egli vivrà grazie a me questo è il pane disceso dal cielo non come quello che mangiarono i padri e sono morti chi si ciba di questo pane vivrà per sempre questi insegnamenti impartì nella sinagoga a Cafarnao dopo aver udito molti dei suoi discepoli dissero questo discorso è duro chi lo può ascoltare Gesù sapendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano a proposito di questo disse loro questo vi scandalizza e quando vedrete il figlio dell'uomo ascendere là dove era prima lo spirito è quello che vivifica la carne non giova a nulla le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita ma ci sono alcuni di voi che non credono Gesù infatti sapeva fin dall'inizio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito e diceva per questo vi ho detto nessuno può venire a me se non gli è dato dal padre da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui Gesù allora disse ai dodici volete forse andarvene anche voi gli rispose Simon Pietro signore da chi andremo tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo riconosciuto che tu sei il santo di Dio rispose loro Gesù non vi ho scelto io voi dodici eppure uno di voi è un diavolo parlava di Giuda figlio di Simone Iscariota infatti stava per tradirlo proprio lui uno dei dodici in seguito Gesù girava per la Galilea non voleva infatti girare per la Giudea perché i Giudei cercavano di ucciderlo era prossima la festa dei Giudei quella delle capanne gli dissero i suoi fratelli parti di qui e va nella Giudea affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai nessuno infatti agisce in segreto quando cerca di mettersi in mostra se tu fai queste cose manifestati al mondo infatti nemmeno i suoi fratelli credevano in lui Gesù disse loro non è ancora il mio tempo il vostro tempo è sempre disponibile non può il mondo odiare voi invece odia me perché io attesto contro di lui che le sue opere sono malvagie salite voi alla festa io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto detto ciò rimase in Galilea quando i suoi fratelli furono saliti alla festa allora anche egli vi salì non pubblicamente ma quasi in segreto i Giudei lo cercavano durante la festa e dicevano lui dov'è e circolavano molte voci a suo riguardo in mezzo alle folle alcuni dicevano è buono altri dicevano no anzi inganna la gente nessuno però parlava pubblicamente di lui per paura dei Giudei quando la festa fu a metà Gesù salì al Tempio e insegnava i Giudei erano stupiti e dicevano come mai costui sa di lettere senza essere stato a scuola Gesù rispose loro la mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato se uno vuol fare la sua volontà conoscerà riguardo alla dottrina se è da Dio o se parlo da me stesso colui che parla da se stesso cerca la propria gloria chi invece cerca la gloria di colui che l'ha mandato questi è veritiero e in lui non c'è impostura Mosè non vi ha dato la legge ma nessuno di voi mette in pratica la legge perché cercate di uccidermi rispose la folla tu hai un demonio chi cerca di ucciderti rispose loro Gesù ho fatto una sola opera e tutti rimanete stupiti per questo poiché Mosè ha dato la circoncisione non che sia da Mosè ma dai patriarchi circoncidete una persona anche di sabato se una persona riceve la circoncisione di sabato perché non sia violata la legge di Mosè vi sdegnate contro di me perché ho risanato di sabato una persona intera non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate secondo giustizia dicevano allora alcuni gerosolimitani non è questi colui che cercano di uccidere ecco che parla pubblicamente e non gli dicono nulla non avranno forse riconosciuto veramente i capi che questi è il Cristo ma costui sappiamo donde è mentre il Cristo quando viene nessuno sa di dov'è Gesù che insegnava nel tempio proclamò voi mi conoscete e sapete donde sono eppure non sono venuto da me stesso ma è veritiero colui che mi ha mandato che voi non conoscete io lo conosco perché sono da lui ed è lui che mi ha mandato cercavano allora di prenderlo ma nessuno gli mise le mani addosso perché non era ancora giunta la sua ora molti della folla però credettero in lui e dicevano il Cristo quando verrà farà più segni di quello che ha fatto costui i farisei sentirono che circolavano fra il popolo queste voci su di lui e i sacerdoti capi e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo disse allora Gesù ancora un po' di tempo sono con voi poi me ne vado a colui che mi ha mandato mi cercherete e non mi troverete e dove sono io voi non potete venire dissero dunque i giudei fra loro dove sta per andarsene costui che noi non potremo trovarlo sta forse per andarsene nella diaspora dei greci e distruire i greci cosa ha voluto dire con questo discorso mi cercherete non mi troverete e dove sono io voi non potete venire l'ultimo giorno quello solenne della festa Gesù stava in piedi e proclamò a gran voce se qualcuno ha sete venga a me e beva colui che crede in me come disse la scrittura dal suo ventre sgorgeranno fiumi di acqua viva questo lo disse riferendosi allo spirito che stavano per ricevere coloro che credevano in lui infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato tra la folla coloro che avevano udito queste parole dicevano questi è veramente il profeta altri dicevano questi è il Cristo ma altri osservavano forse che il Cristo viene dalla Galilea non dice la scrittura che il Cristo viene dalla stirpe di Davide e dal villaggio di Betlemme dove viveva Davide si creò allora una divisione fra la gente a causa di lui alcuni avrebbero voluto arrestarlo ma nessuno gli mise le mani addosso le guardie ritornarono dai sacerdoti capi e dai farisei e quelli dissero loro perché non l'avete condotto risposero le guardie nessun uomo ha mai parlato così allora ribatterono loro i farisei anche voi vi siete lasciati ingannare c'è uno solo dei capi o dei farisei che abbia creduto a lui ma questa gentaglia che non conosce la legge è maledetta uno di loro Nicodemo quello che era andato precedentemente da lui dice loro giudica forse la nostra legge qualcuno senza che prima lo si ascolti in modo che si sappia che cosa fa gli risposero sei forse anche tu della Galilea studia a fondo e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea e se ne andarono ciascuno a casa sua a l'un l'an a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gesù invece andò sul Monte degli Olivi. Di buon mattino si presentò di nuovo al Tempio e tutto il popolo accorreva a lui e sedutosi li istruiva. Ora gli iscrivi e i farisei conducono una donna sorpresa in adulterio e postala in mezzo gli dicono, maestro questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Questo lo dicevano per tendergli un tranello, per avere di chi accusarlo. Gesù però, chinatosi, tracciava dei segni per terra con il dito. Siccome insistevano nell'interrogarlo, si drizzò e disse loro, Quello di voi, che è senza peccato, scagli per primo una pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, presero a ritirarsi uno dopo l'altro, a cominciare dai più anziani, e fu lasciato solo con la donna che stava nel mezzo. Rizzatosi allora Gesù le disse, Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Rispose, nessuno, signore. Neppure io ti condanno, disse Gesù. Va, ed ora in poi, non peccare più. Gesù parlò di nuovo, dicendo, Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gli dissero allora i farisei, Tu rendi testimonianza a te stesso, la tua testimonianza non è valida. Rispose loro Gesù. Anche se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza è valida, perché so donde sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete donde vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Ma anche se io giudico, il mio giudizio è valido, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due persone è valida. Sono io che rendo testimonianza a me stesso, e mi rende testimonianza anche il Padre che mi ha mandato. Gli dissero allora, Dov'è il Padre tuo? Rispose Gesù. Non conoscete né me né il Padre mio. Se mi conosceste, conoscereste anche il Padre mio. Pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché non era ancora giunta la sua ora. Disse loro di nuovo, Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove io vado, voi non potete venire. Dissero allora i giudei, Vuol forse suicidarsi che dice, Dove io vado, voi non potete venire? Diceva loro, Voi siete dal basso, io sono dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Per questo vi ho detto, morirete nei vostri peccati. Se infatti non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dicevano allora, Chi sei tu? Gesù rispose loro, Anzitutto, ciò che vi continuo a dire. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, e io dico al mondo quelle cose che ho udito da lui. Non compresero che parlava loro del Padre. Disse dunque Gesù, Quando innalzerete il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, queste cose dico. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre ciò che gli piace. A queste sue parole, molti credettero in lui. Diceva dunque Gesù ai giudei che avevano creduto a lui, Se rimanete nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Gli risposero, Noi siamo stirpe di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come mai, tu dici, diventerete liberi? Rispose loro Gesù, In verità, in verità vi dico, Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Lo schiavo non rimane in casa per sempre, il figlio rimane per sempre. Se il figlio vi libererà, sarete veramente liberi. So che siete stirpe di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io vi dico quello che ho visto presso il Padre. Fate dunque anche voi quello che avete udito dal Padre. Gli risposero, Il nostro Padre è Abramo. Dice loro Gesù, Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità che ha udito da Dio. Questo, Abramo, non lo fece. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli dissero, Noi non siamo nati da prostituzione, non abbiamo che un padre, Dio. Disse loro Gesù, Se il vostro Padre fosse Dio, mi amereste, perché io sono uscito e vengo da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete capaci di ascoltare la mia parola. Il diavolo è il Padre da cui voi siete e volete compiere i desideri del vostro Padre. Quello è stato omicida fin dal principio e non si mantenne nella verità, perché la verità non è in Lui. Quando dice la menzogna, dice proprio ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece, perché dico la verità, non credete. Chi di voi può dimostrare che io abbia peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Gli risposero i giudei, Non diciamo noi giustamente che sei un samaritano e che hai un demonio? Rispose Gesù, Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. C'è chi la cerca e giudica. In verità, in verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero i giudei, Adesso siamo sicuri che tu hai un demonio. Abramo è morto. Anche i profeti sono morti e tu dici, se uno osserva la mia parola, non gusterà la morte in eterno. Sei tu forse più grande del nostro Padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Rispose Gesù, Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. È il Padre mio che mi glorifica. Quello di cui voi dite è il nostro Dio. Eppure non l'avete conosciuto, mentre io lo conosco. Se io dicessi, non lo conosco, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò al vedere il mio giorno e lo vide e si rallegrò. Gli dissero allora i giudei, Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo? Disse loro Gesù, In verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Presero allora delle pietre per scagliargliele addosso. Gesù però si nascose ed uscì dal tempio. Ora, mentre passava, vide un uomo cieco dalla nascita. I suoi discepoli gli domandarono, Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è nato cieco, perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo operare le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Viene la notte, quando nessuno può più operare, finché sono nel mondo, sono luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva e spalmò il fango sugli occhi di lui. Poi gli disse, Va e lavati alla piscina di Siloe, che significa inviato. Egli andò, si lavò e ritornò che vedeva. Ora, i vicini e quelli che l'avevano visto prima da mendicante dicevano, Non è lui quello che stava seduto a mendicare? Altri dicevano, Ma no, è un altro che gli somiglia. Egli però diceva, Sono proprio io. Gli dicevano dunque, Come mai ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose, Un uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto, Va a Siloe e lavati. Andato e lavatomi, ho cominciato a vedere. Gli dissero, Dov'è lui? Dice, Non lo so. Conducono dai farisei quello che prima era cieco. Era sabato, il giorno in cui Gesù fece il fango e gli aprì gli occhi. A loro volta, anche i farisei lo interrogavano come aveva riacquistato la vista. Disse loro, Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e vedo. Dicevano allora alcuni dei farisei, Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Altri però dicevano, Come può uno che è peccatore compiere tali segni? E c'era divisione fra di loro. Dicono perciò di nuovo al cieco, Tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? E' un profeta, rispose. Non credettero però i giudei che gli fosse stato cieco e che avesse riacquistato la vista finché non chiamarono i genitori di colui che aveva riacquistato la vista e li interrogarono. Costui è proprio vostro figlio quello che voi dite essere nato cieco? Come mai ora vede? Risposero i suoi genitori. Noi sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Interrogate lui. Ha la sua età. Egli stesso parlerà di sé. I suoi genitori parlarono così perché temevano i giudei. I giudei infatti si erano già accordati che se qualcuno lo avesse riconosciuto come Cristo sarebbe stato escluso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero ha la sua età. Chiedetelo a lui. Chiamarono dunque di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Egli rispose Se sia un peccatore non lo so. Io so soltanto una cosa. Ero cieco e ora vedo. Gli dissero Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro Ve l'ho già detto e non mi avete dato ascolto. Perché volete sentirlo ancora? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli? Lo coprirono allora di ingiurie e gli dissero Tu sei discepolo di quello là ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato ma costui non sappiamo Donde sia. L'uomo obiettò loro Lo strano è proprio questo che voi non sappiate Donde sia eppure mi ha aperto gli occhi. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori ma se uno è pio e fa la sua volontà questo lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Se quell'uomo non fosse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Gli risposero sei nato immerso nei peccati e pretendi di insegnarci e lo cacciarono fuori. Gesù sentì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse credi tu nel figlio dell'uomo? Rispose ma chi è signore perché io creda in lui? Gli disse Gesù lo hai già visto è colui che parla con te. Credo signore disse e si prosternò davanti a lui. Disse allora Gesù per una discriminazione sono venuto in questo mondo perché coloro che non vedono vedano e coloro che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero siamo forse ciechi anche noi? Gesù disse loro se foste ciechi non avreste peccato ora invece dite noi vediamo il vostro peccato rimane. in verità in verità vi dico chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore ma s'arrampica da un'altra parte è un ladro e un bandito chi invece entra per la porta è pastore delle pecore il guardiano gli apre le pecore ascoltano la sua voce e chiama le proprie pecore per nome e le fa uscire quando ha spinto fuori tutte le proprie cammina davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce non seguiranno affatto un estraneo ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei Gesù disse loro questa parabola ma quelli non compresero di che cosa volesse parlare loro Gesù allora continuò in verità in verità vi dico io sono la porta delle pecore tutti coloro che vennero prima di me sono ladri e briganti ma le pecore non li ascoltarono io sono la porta chi entrerà attraverso di me sarà salvo entrerà ed uscirà e troverà pascolo il ladro non entra che per rubare sgozzare e distruggere io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza io sono il buon pastore il buon pastore dà la sua vita per le pecore il mercenario invece che non è pastore cui non appartengono le pecore vede venire il lupo abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde perché è mercenario e non gli importa delle pecore io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me come il padre conosce me e io conosco il padre io do la mia vita per le pecore e do altre pecore che non sono di questo vile anche se io devo guidare ascolteranno la mia voce e saranno un solo gregge un solo pastore per questo il padre mi ama perché io do la mia vita per riprenderla di nuovo nessuno me la toglie ma io la do da me stesso ho il potere di darla e ho il potere di riprenderla questo è il comando che ho ricevuto dal padre mio ci fu nuova divisione fra i giudei a causa di queste parole molti di essi dicevano a un demonio e delira perché lo ascoltate altri dicevano queste parole non sono di un indemoniato un demonio può forse aprire gli occhi ai ciechi a gerusalemme ricorreva allora la festa della dedicazione era inverno e gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di salomone lo circondarono i giudei e gli dicevano fino a quando ci tieni con l'animo sospeso se sei il cristo dicelo apertamente rispose loro gesù ve l'ho detto e non credete le opere che faccio in nome del padre mio esse mi rendono testimonianza ma voi non credete perché non siete delle mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco e mi seguono io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le strapperà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può strappare dalla mano del padre io e il padre siamo uno i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo gesù rispose loro vi ho mostrato molte opere buone da parte del padre per quale di queste opere mi lapidate gli risposero i giudei non ti lapidiamo per un'opera buona ma per una bestemmia perché tu che sei uomo ti fai dio rispose loro gesù non è scritto nella vostra legge io ho detto siete dei se ha detto dei coloro cui fu rivolta la parola di dio e la scrittura non si può abolire a colui che il padre ha santificato e ha mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché ho detto io sono figlio di dio se non faccio le opere del padre mio non credetemi ma se le faccio anche se non credete a me credete alle opere così che conosciate e cominciate a comprendere che il padre è in me e io nel padre tentarono nuovamente di arrestarlo ma egli sfuggì dalle loro mani poi andò di nuovo di là del Giordano nel luogo in cui dapprima Giovanni aveva battezzato e vi rimase molti vennero a lui e dicevano Giovanni non ha fatto nessun segno ma tutto ciò che gli disse di costuglia era vero e là molti credettero in lui c'era un malato Lazzaro da Betania il paese di Maria e di sua sorella Marta Maria era quella che aveva unto il signore con profumo e gli aveva asciugato i piedi con i capelli Lazzaro che era ammalato era suo fratello le due sorelle mandarono a dirgli vedi signore colui che tu ami è ammalato sentito che lebbe Gesù disse questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa sia glorificato il figlio di Dio Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro quando sentì che era ammalato rimase ancora due giorni nel luogo in cui si trovava solo dopo dice ai discepoli andiamo di nuovo in Giudea gli dicono i discepoli rabbì poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ritorni là rispose Gesù non sono dodici le ore del giorno se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui detto questo soggiunse il nostro amico Lazzaro si è addormentato ma vado a risvegliarlo gli dissero allora i discepoli Signore se è addormentato si salverà Gesù però parlava della morte di lui essi invece avevano supposto che parlasse del riposo del sonno allora Gesù disse loro apertamente Lazzaro è morto e godo per voi di non essere stato là affinché crediate ma andiamo da lui disse allora Tommaso chiamato Didimo ai condiscepoli andiamo anche noi a morire con lui quando Gesù arrivò trovò che Lazzaro stava nella tomba già da quattro giorni Betania non è lontana da Gerusalemme se non circa quindici stadi ora molti giudei si erano recati da Marta e Maria per consolarle del fratello Marta quando sentì che Gesù veniva gli andò incontro Maria invece stava seduta in casa Marta disse allora a Gesù Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto ma anche ora so che qualsiasi cosa tu chieda a Dio egli te la darà le dice Gesù tuo fratello risorgerà gli risponde Marta so che risorgerà nella risurrezione all'ultimo giorno le disse Gesù io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se morisse vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà mai credi tu a ciò gli dice sì Signore io ho creduto che tu sei il Cristo il Figlio di Dio quello che deve venire nel mondo detto questo andò e chiamò sua sorella Maria dicendole sottovoce il Maestro è qui e ti chiama quella appena audito ciò si alzò in fretta e andò da lui Gesù non era arrivato al paese ma si trovava ancora nel luogo in cui gli era andato incontro Marta quando i giudei che erano con lei nella casa e la consolavano videro Maria alzasse in fretta ed uscire la seguirono supponendo che andasse alla tomba per piangervi Maria giunta al luogo in cui si trovava Gesù lo vide e si gettò ai suoi piedi dicendogli Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto Gesù allora come la vide piangere e piangere anche i giudei venuti con lei fremette interiormente e si turbò poi disse dove l'avete posto gli dicono Signore vieni e vedi Gesù pianse dicevano allora i giudei vedi come l'amava ma alcuni di essi dissero non poteva costui che ha aperto gli occhi del cieco fare che questi non morisse scosso nuovamente da un fremito in se stesso Gesù viene al sepolcro era una grotta e vi era stata posta una pietra dice Gesù levate la pietra gli dice Marta la sorella del morto Signore già puzza è di quattro giorni le dice Gesù non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio levarono dunque la pietra Gesù alzò gli occhi e disse Padre ti ringrazio di avermi ascoltato sapevo bene che tu sempre mi ascolti ma l'ho detto per la gente che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato detto questo gridò a gran voce Lazzaro vieni fuori uscì fuori il morto legato piedi e mani con bende e la sua faccia era avvolta con un sudario Gesù dice loro scioglietelo e lasciatelo andare molti dei giudei che erano andati da Maria e avevano visto ciò che aveva fatto credettero in lui alcuni di essi invece andarono dai farisei e raccontarono loro ciò che aveva fatto Gesù allora i sacerdoti capi e i farisei convocarono il sinedrio e dicevano che cosa facciamo quest'uomo compie molti segni se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui verranno i romani e distruggeranno il luogo e la nazione ma uno di loro Caifa che era sommo sacerdote in quell'anno disse loro voi non capite niente né vi rendete conto che è più vantaggioso per voi che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca tutta intera la nazione questo però non lo disse da se stesso ma essendo sommo sacerdote in quell'anno profetizzò che Gesù stava per morire per la nazione e non per la nazione soltanto ma anche per radunare insieme nell'unità i figli dispersi di Dio da quel giorno dunque decisero di farlo morire per questo Gesù non si mostrava più in pubblico fra i giudei ma se ne andò da lì in una regione vicino al deserto in una città chiamata Efraim e lì rimase con i suoi discepoli era prossima la Pasqua dei giudei e salirono molti a Gerusalemme dal paese prima della Pasqua per purificarsi cercavano Gesù e dicevano fra loro stando nel tempio che ne dite non verrà alla festa ma i sacerdoti capi e i farisei avevano impartito l'ordine che se qualcuno sapeva dove si trovava lo denunciasse così che lo potessero arrestare Gesù sei giorni prima della Pasqua andò a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti ora là gli prepararono un pranzo e Marta serviva mentre Lazzaro era uno di quelli che sedevano a mensa con lui Maria presa una libra di profumo di nardo autentico molto prezioso unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli la casa fu ripiena della fragranza di quel profumo dice Giuda Iscariota uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo perché non si è venduto il profumo per 300 danari e non si è dato il ricavato ai poveri lo disse però non perché gli stavano a cuore i poveri ma perché era ladro e avendo la borsa sottraeva ciò che vi veniva messo dentro disse allora Gesù lasciala che lo doveva conservare per il giorno della mia sepoltura i poveri infatti li avete sempre con voi me invece non avete sempre una folla numerosa di giudei venne a sapere che si trovava lì e vennero non solo per Gesù ma anche per vedere Lazzaro che aveva risuscitato dai morti i sacerdoti capi decisero allora di uccidere anche Lazzaro perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù il giorno dopo la grande folla giunta per la festa sentito che Gesù veniva a Gerusalemme prese rami di palma e gli andò incontro gridando Osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore il re di Israele Gesù trovato un asinello gli sedette in groppa come sta scritto non temere figlia di Sion ecco il tuo re viene seduto sopra un puledro d'asina in un primo tempo i suoi discepoli non compresero questo fatto ma quando Gesù fu glorificato allora si ricordarono che questo era stato scritto di lui e che era proprio quello che gli avevano fatto la gente che era stata con lui quando aveva chiamato Lazzaro dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti gli rendeva testimonianza per questo gli andò incontro la folla perché avevano sentito che aveva fatto questo segno i farisei allora si dissero fra loro vedete che non combinate nulla ecco che il mondo gli è andato dietro tra quelli che erano saliti per adorare durante la festa c'erano alcuni greci essi abbordarono Filippo quello di Bezaida di Galilea e gli chiesero signore vorremmo vedere Gesù Filippo va a dirlo ad Andrea Andrea e Filippo vanno a dirlo a Gesù Gesù risponde loro è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato in verità in verità vi dico se il grano di frumento caduto per terra non muore resta esso solo ma se muore porta molto frutto chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna se qualcuno mi serve mi segua e là dove sono io sarà anche il mio servo se uno mi serve il padre lo onorerà ora la mia anima è turbata e che devo dire padre salvami da quest'ora ma proprio per questo sono venuto a quest'ora padre glorifica il tuo nome venne allora una voce dal cielo l'ho glorificato e lo glorificherò ancora la gente che stava lì e aveva sentito diceva che era stato un tuono altri dicevano un angelo gli ha parlato rispose Gesù non è per me che si è fatta sentire questa voce ma per voi ora c'è il giudizio di questo mondo ora il principe di questo mondo sarà cacciato fuori e quando io sarò innalzato da terra attrarrò tutti a me questo lo diceva per indicare di quale morte stava per morire gli rispose la gente noi abbiamo sentito dalla legge che il Cristo rimane per sempre e come dici tu che il figlio dell'uomo deve essere innalzato chi è questo figlio dell'uomo disse loro Gesù solo ancora un po' di tempo la luce è in mezzo a voi camminate finché avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre chi cammina nelle tenebre non sa dove va finché avete la luce credete alla luce affinché diventiate figli della luce questo disse Gesù e andatosene si nascose da loro per quanto Gesù avesse compiuto così grandi segni davanti a loro non credevano in lui perché si adempisse la parola che aveva detto il profeta Isaia Signore chi credette alla nostra parola il braccio del Signore a chi fu rivelato per questo non potevano credere perché Isaia disse anche ha accecato i loro occhi e incallito il loro cuore affinché con gli occhi non vedano e col cuore non comprendano e così non si convertano e io non li guarisca questo Isaia lo disse perché vide la sua gloria e parlò di lui pur tuttavia anche fra i capi molti credettero in lui ma non lo professavano pubblicamente a causa dei farisei per non venire espulsi dalla sinagoga preferirono infatti la gloria degli uomini alla gloria di Dio Gesù proclamò ad alta voce chi crede in me non crede in me ma in colui che mi ha mandato e colui che vede me vede colui che mi ha mandato io luce sono venuto nel mondo affinché chi crede in me non rimanga nelle tenebre se uno ascolta le mie parole e non le osserva io non lo condanno non sono venuto infatti per condannare il mondo ma per salvare il mondo colui che mi rifiuta e non accoglie le mie parole a chi lo giudica la parola che ho pronunciato quella lo giudicherà nell'ultimo giorno perché io non ho parlato da me stesso ma il padre stesso che mi ha mandato mi ha comandato ciò che dovevo dire e pronunciare e so che il suo comandamento è vita eterna ciò che dico lo dico come il padre me l'ha detto prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che era venuta la sua ora per passare da questo mondo al padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine durante la cena quando il diavolo aveva già posto in animo a Giuda di Simone Iscariota di tradirlo sapendo che il padre aveva messo tutto nelle sue mani e che da Dio era uscito e a Dio ritornava si alzò da tavola depose il mantello e preso un panno se ne cinse versò quindi dell'acqua nel catino e incominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il panno del quale si era cinto arriva dunque a Simone Pietro gli disse signore tu mi lavi i piedi gli rispose Gesù ciò che io ti faccio tu ora non lo sai lo comprenderai in seguito gli disse Pietro non mi laverai i piedi no mai gli rispose Gesù se io non ti lavo non avrai parte con me gli disse Simone Pietro signore non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo Gesù soggiunse chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è integralmente puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi stava per tradirlo per questo disse non tutti siete puri or quando ebbe lavato loro i piedi riprese il suo mantello si rimise a sedere e disse loro capite che cosa vi ho fatto voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono se dunque io il signore e il maestro vi ho lavato i piedi anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come io ho fatto a voi in verità in verità vi dico il servo non è più grande del suo padrone né l'apostolo e più grande di colui che l'ha mandato se capite queste cose siete beati se le mettete in pratica non parlo per tutti voi io conosco chi ho scelto ma deve compiersi la scrittura colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno fin d'ora ve lo dico prima che accada affinché quando accadrà crediate che io sono in verità in verità vi dico chi accoglie colui che avrò mandato accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato detto questo Gesù fu turbato interiormente e attestò in verità in verità vi dico uno di voi mi tradirà i discepoli si guardavano gli uni gli altri non riuscendo a capire di chi egli parlava uno dei suoi discepoli quello che Gesù amava stava adagiato proprio accanto a Gesù allora Simon Pietro gli facendo di chiedergli chi fosse quello di cui parlava egli chinatosi sul petto di Gesù gli dice signore chi è Gesù risponde è quello a cui porgerò il boccone che sto per intingere intinto dunque il boccone lo prese e lo porse a Giuda figlio di Simone Iscariota allora dopo il boccone entrò in lui Satana gli dice Gesù quello che devi fare fallo subito ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto questo siccome Giuda teneva la borsa alcuni supponevano che Gesù gli avesse detto compera quanto ci occorre per la festa oppure che gli avesse ordinato di dare qualcosa ai poveri così preso il boccone quello uscì subito era notte quando fu uscito Gesù dice ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui se Dio è stato glorificato in lui anche Dio per parte sua lo glorificherà e subito lo glorificherà figlioletti ancora un poco sarò con voi mi cercherete e come ho detto ai giudei dove io vado voi non potete venire così lo dico ora anche a voi un comandamento nuovo vi do che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi anche voi amatevi gli uni gli altri da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri gli disse Simon Pietro signore dove vai gli rispose Gesù dove io vado tu non mi puoi seguire ora mi seguirai più tardi gli disse Pietro signore perché non posso seguirti fin d'ora darei la mia vita per te rispose Gesù darai la tua vita per me in verità in verità ti dico il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato tre volte non si turbi il vostro cuore credete in Dio e credete anche in me nella casa del padre mio ci sono molte dimore se no vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto ritornerò e vi prenderò presso di me affinché dove sono io siate anche voi e dove io vado voi conoscete la via gli dice Tommaso signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscerne la via gli dice Gesù io sono la via e la verità e la vita nessuno va al padre se non attraverso di me se voi mi aveste conosciuto anche il mio padre conoscereste e fin d'ora voi lo conoscete e l'avete visto vi dice Filippo mostraci il padre e ci basta gli dice Gesù da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto Filippo chi ha visto me ha visto il padre come puoi tu dire mostraci il padre non credi che io sono nel padre e il padre è in me le parole che io vi dico non le dico da me stesso il padre che dimora in me fa le sue opere credetemi io sono nel padre e il padre è in me almeno credete a causa delle opere stesse in verità in verità vi dico chi crede in me anche egli farà le opere che io faccio e ne farà anche di più grandi perché io vado al padre e quanto chiederete nel mio nome lo farò affinché il padre sia glorificato nel figlio se mi chiederete qualcosa nel mio nome io lo farò se mi amate osservate i miei comandamenti io pregherò il padre ed egli vi darà un altro paraclito affinché sia sempre con voi lo spirito di verità che il mondo non può accogliere perché non lo vede né lo conosce voi lo conoscete perché dimora presso di voi e sarà in voi non vi lascerò orfani ritornerò da voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete in quel giorno voi riconoscerete che io sono nel padre voi in me e io in voi chi ha i miei comandamenti e li osserva è lui che mi ama colui che mi ama sarà amato dal padre mio e io lo amerò e manifesterò a lui me stesso gli dice giuda non l'iscariota signore che è mai successo che tu stai per manifestare te stesso a noi e non al mondo gli rispose gesù se qualcuno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e verremo a lui e faremo dimora presso di lui colui che non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del padre che mi ha mandato vi ho detto queste cose mentre rimango presso di voi ma il paraclito lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome egli vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tutto ciò che vi ho detto la pace vi lascio la mia pace vi do non come la dà il mondo io ve la do non si turbi il vostro cuore e non si abbatta avete udito che vi ho detto me ne vado e ritornerò da voi se mi amaste godreste che io vado al padre perché il padre è più grande di me ve l'ho detto ora prima che accada affinché quando accadrà crediate io non mi intratterrò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo egli però non ha alcuna presa su di me ma perché il mondo sappia che io amo il padre e agisco come il padre mi ha comandato levatevi partiamo di qui mi ha comandato Grazie a tutti. 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 Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i miei comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia giunga alla pienezza. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore ha un amore più grande di questo, voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più, non vi chiamo più servi, perché il servo non vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere. Non voi avete eletto me, ma io ho eletto voi, e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che gli appartiene. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho eletti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordate la parola che io vi dissi. Non c'è servo più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, anche la vostra osserveranno. Ma tutte queste cose faranno a voi, a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto, e non avessi parlato loro, non avrebbero peccato. Ora invece, non hanno scusa per il loro peccato. Chi mi odia, odia anche il Padre mio. Se in mezzo a loro non avessi fatto le opere, che nessun altro ha fatto, non avrebbero peccato. Ora invece hanno visto, e hanno odiato me, e il Padre mio. Ma è perché si compisse la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraclito che vi manderò dal Padre, lo Spirito di Verità che procede dal Padre, Egli mi darà testimonianza. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete con me fin dall'inizio. Questo vi ho detto, perché non rimaniate scandalizzati. Vi cacceranno fuori dalle sinagoge. Viene anzi l'ora in cui chi vi ucciderà, Penserà di rendere un culto a Dio. Questo faranno, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma questo vi ho detto, affinché, quando verrà la loro ora, Ricordiate che io ve l'avevo detto. Non vi ho detto questo fin dall'inizio, perché ero con voi. Ora invece vado a colui che mi ha mandato, E nessuno di voi mi domanda, dove vai? Anzi, poiché vi ho detto questo, La tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È meglio per voi che io parta, Perché se non parto, il Paraclito non verrà a voi. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando Egli verrà, confuterà il mondo in fatto di peccato, Di giustizia e di giudizio. In fatto di peccato, perché non credono in me. In fatto di giustizia, perché me ne vado al Padre E voi non mi vedrete più. In fatto di giudizio, perché il Principe di questo mondo È già giudicato. Ancora molte cose ho da dirvi, Ma non le potete portare per ora. Quando verrà lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Non parlerà infatti da se stesso, Ma quanto sentirà, dirà, E vi annuncerà le cose venture. Egli mi glorificherà, Perché prenderà da me e ve lo annuncerà. Tutto quanto ha il Padre è mio, Per questo vi ho detto che prenderà da me E lo annuncerà a voi. Un poco e non mi vedrete più. E poi, un poco ancora e mi vedrete. Allora, alcuni dei suoi discepoli dissero fra loro, Che è mai questo che ci dice, Un poco e non mi vedrete, E poi un poco ancora e mi vedrete. E io me ne vado al Padre. Dicevano dunque, Che è mai questo, Un poco di cui parla. Non comprendiamo che cosa voglia dire. Gesù conobbe che volevano interrogarlo e disse loro, Vi interrogate fra di voi riguardo a ciò che vi ho detto. Un poco e non mi vedrete, E poi ancora un poco e mi vedrete. In verità, in verità vi dico, Voi piangerete e gemerete, Mentre il mondo si rallegrerà. Voi vi rattristerete, Ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, Ha tristezza, Perché è venuta la sua ora. Ma quando ha partorito il bambino, Non si ricorda più della sofferenza Per la gioia che è nato un uomo al mondo. Anche voi ora avete tristezza, Ma vi vedrò di nuovo, Il vostro cuore si rallegrerà, E la vostra gioia nessuno ve la potrà rapire. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità, in verità vi dico, Qualsiasi cosa chiediate al Padre nel nome mio, Nel mio nome ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, In modo che la vostra gioia sia completa. Questo vi ho detto in similitudini. Viene l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, Ma vi annuncerò apertamente quanto riguarda il Padre mio. In quel giorno chiederete nel mio nome, E non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, Poiché voi mi avete amato E avete creduto che sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre, E sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo, E vado al Padre. Dicono i suoi discepoli, Ecco che ora parli apertamente E non usi nessuna figura. Ora sappiamo che conosci tutto E non hai bisogno che ti si interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù, Voi adesso credete? Ecco che viene l'ora, Ed è venuta, Che sarete dispersi, Ciascuno per conto suo, E mi lascerete solo. Ma io non sono solo, Perché il Padre è con me. Questo vi ho detto perché abbiate pace in me. In questo mondo avete da soffrire, Ma abbiate coraggio, Io ho vinto il mondo. Così parlò Gesù, E levati gli occhi al cielo disse, Padre, L'ora è venuta, Glorifica il figlio tuo, Affinché il figlio glorifichi te. Come gli hai dato potere su ogni carne, Dì a egli la vita eterna, A tutti coloro che tu gli hai dato. Questa è la vita eterna, Che conoscano te, Il solo vero Dio, E colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, Avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, glorificami tu, Padre, Davanti a te, Con la gloria che io avevo presso di te, Prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, E li hai dati a me, E hanno servato la tua parola. Ora essi sanno che tutto quanto mi hai dato, Viene da te, Perché le parole che tu mi hai date, Io le ho date a loro, Ed essi le hanno accolte, E sanno veramente che sono uscito da te, E hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, Non prego per il mondo, Ma per coloro che tu mi hai dato, Perché sono tuoi. Tutto ciò che è mio è tuo, E quello che è tuo è mio, E io sono stato glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, Ma essi sono nel mondo, Mentre io vengo a te. Padre Santo, Conservali nel tuo nome che mi hai dato, Affinché siano uno, Come noi. Quando ero con loro, Io li ho conservati nel tuo nome che mi hai dato, E li ho custoditi, E nessuno di loro si è perduto, Eccetto il figlio della perdizione, Affinché si adempisse la scrittura. Ora vengo a te, E queste cose dico mentre sono nel mondo, Affinché abbiano in loro la mia gioia in pienezza. Io ho dato loro la tua parola, E il mondo li ha odiati, Perché non sono del mondo, Come io non sono del mondo. Non ti chiedo che li tolga dal mondo, Ma che li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, Come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, Così anch'io li ho mandati nel mondo. E per loro consacro me stesso, Affinché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per costoro, Ma anche per coloro che crederanno in me, Mediante la loro parola. Che tutti siano uno, Come tu padre in me, E io in te, Affinché siano anch'essi in noi, Così che il mondo, Creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, Perché siano uno come noi siamo uno, Io in loro, E tu in me, Perché siano perfetti nell'unità, E il mondo riconosca, Che tu mi hai mandato, E li hai amati, Come hai amato me. Padre, Voglio che anche quelli che tu mi hai dato, Siano con me, Dove sono io, Affinché contemplino la mia gloria, Quella che tu mi hai dato, Poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, Il mondo non ti ha conosciuto, Io invece ti ho conosciuto, E costoro hanno riconosciuto che tu mi hai mandato. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome, E continuerò a farlo conoscere, Affinché l'amore con cui tu mi hai amato, Sia in essi, Ed io in loro. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli, Al di là del torrente Cedron, Dove c'era un orto, In cui entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, Che lo stava tradendo, Conosceva bene il posto, Perché Gesù molte volte, Si era riunito là, Con i suoi discepoli. Giuda dunque, Presa la corte, E le guardie dei sacerdoti capi, E dei farisei, Vi si recò con lanterne, Fiaccole, Ed armi. Gesù, Sapendo tutto ciò che stava per accadergli, Si fece avanti e disse loro, Chi cercate? Gli risposero, Gesù il Nazareno, Dice loro, Io sono. Stava con loro anche Giuda che lo tradiva. Quando ebbe detto loro, Io sono, Indietreggiarono, E caddero a terra. Domandò allora di nuovo, Chi cercate? Ed essi dissero, Gesù il Nazareno, Gesù rispose, Ve l'ho detto che sono io, Se dunque cercate me, Lasciate andare via costoro. Così, Si adempì la parola che aveva detto, Di quelli che mi hai dato, Non ne ho perduto nessuno. Allora, Simon Pietro, Che aveva una spada, La sfoderò, E colpì il servo del sommo sacerdote, E gli mozzò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro, Metti la spada nel fodero, Non dovrò forse bere il calice Che il padre mi ha dato? Allora la corte, Il comandante, E le guardie dei giudei Presero Gesù, Lo legarono, E lo portarono dapprima da Anna. Egli era infatti suocero di Caifa, Sommo sacerdote in quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei, Conviene che muoia un solo uomo per il popolo. Or seguivano Gesù, Simon Pietro e un altro discepolo. Quel discepolo era noto al sommo sacerdote, Ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori davanti alla porta. Uscì dunque l'altro discepolo noto al sommo sacerdote, Parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. Questa ragazza, detta alla porta, Disse a Pietro, Non sei forse anche tu dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose, Non lo sono. Poiché faceva freddo, I servi e le guardie avevano acceso un bracere E stavano là a scaldarsi. Pure Pietro stava con loro e si riscaldava. Il sommo sacerdote interrogò Gesù Riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gli rispose Gesù, Io ho parlato apertamente al mondo. Io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio Dove si radunano tutti i giudei E di nascosto non ho mai detto nulla. Perché mi interroghi? Interroga coloro che mi hanno ascoltato. Che cosa ho detto loro? Ecco, essi sanno ciò che io ho detto. Non appena Gesù ebbe detto ciò, Una delle guardie che stava là Diede uno schiaffo a Gesù dicendogli Così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù, Se ho parlato male, Dimostra dov'è il male. Ma se ho parlato bene, Perché mi percuoti? Anna allora lo mandò legato dal sommo sacerdote Caifa. Simon Pietro nel frattempo stava là a scaldarsi. Gli dissero, Non sei forse anche tu dei suoi discepoli? Egli negò e disse, Non lo sono. Dice uno dei servi del sommo sacerdote, Parente di quello a cui Pietro aveva mozzato l'orecchio, Non ti ho visto io nell'orto con lui? Pietro allora negò di nuovo E subito un gallo cantò. Allora condossero Gesù da Caifa al pretorio. Era di buon mattino. Essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi E poter così mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato fuori, Da loro, E disse, Quale accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero, Se costui non fosse un malfattore, Non te l'avremmo consegnato. Disse loro Pilato, Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli dissero i giudei, A noi non è permesso di mettere a morte nessuno. Doveva così adempiersi la parola che Gesù aveva pronunciato Indicando di quale morte doveva morire. Allora Pilato entrò di nuovo nel pretorio, Chiamò Gesù e gli disse, Tu sei il re dei giudei? Gesù rispose, Dici questo da te stesso O altri te l'hanno detto di me. Rispose Pilato, Sono io forse un giudeo? La tua nazione e i sacerdoti capi ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù, Il mio regno non è di questo mondo. Se di questo mondo fosse il mio regno, Le mie guardie avrebbero combattuto Perché non fossi consegnato ai giudei. Ora il mio regno non è di qui. Gli disse allora Pilato, Dunque, Sei tu re? Rispose Gesù, Tu dici che io sono re. Io sono nato per questo E per questo sono venuto al mondo, Per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, Ascolta la mia voce. Gli dice Pilato, Che cos'è la verità? Detto questo, Uscì di nuovo dai giudei e disse loro, Io non trovo in lui alcun capo di accusa, Ma voi avete l'usanza Che io vi liberi qualcuno a Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Si misero allora a gridare, Non lui, ma Barabba. Barabba era un bandito. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Poi i soldati intrecciarono una corona di spine, Gliela posero sul capo e lo rivestirono di un manto di porpora E si avvicinavano a lui e dicevano, Salve, o re dei giudei, E lo prendevano a schiaffi. Intanto Pilato uscì di nuovo fuori e disse loro, Ecco che ve lo conduco fuori, Affinché sappiate che non trovo in lui nessun capo di accusa. Uscì dunque Gesù fuori, Portando la corona di spine e il manto di porpora E disse loro, Ecco l'uomo. Quando però lo videro i sacerdoti capi e le guardie Si misero a gridare, Crocifiggi, crocifiggi! Dice loro Pilato, Prendetelo voi e crocifiggetelo, Poiché egli non trovo in lui alcun capo di accusa. Gli risposero i giudei, Noi abbiamo una legge E secondo la legge deve morire, Perché si è fatto figlio di Dio. Quando sentì questo discorso, Pilato fu preso ancora più dalla paura. Rientrò nel pretorio e dice a Gesù, Di dove sei tu? Gesù non gli diede risposta. Gli dice allora Pilato, Non vuoi parlarmi? Non sai che ho il potere di liberarti E ho il potere di crocifiggerti? Gli rispose Gesù, Tu non avresti alcun potere su di me Se non ti fosse dato dall'alto. Perciò colui che mi ha consegnato a te Ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, Ma i giudei continuavano a gridare, Se tu liberi costui, Non sei amico di Cesare. Chiunque si far re, Si oppone a Cesare. Sentite queste parole, Pilato condusse fuori Gesù E sedette su una tribuna nel luogo chiamato Pavimento di Pietra, In ebraico, Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, Intorno all'ora sesta. Pilato disse ai giudei, Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono, Via, via, crocifiggilo! Disse loro Pilato, Crocifiggerò il vostro re? Risposero i sacerdoti capi, Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro, Perché fosse crocifisso. Presero dunque in consegna Gesù. Egli portando la croce da sé, Uscì verso il luogo detto del cranio, In ebraico, Golgota, Dove lo crocifissero, E con lui altri due, Uno da una parte, E uno dall'altra, E nel mezzo, Gesù. Pilato aveva scritto anche un cartello, E l'aveva posto sopra la croce. Vi era scritto, Gesù il Nazareno, Il re dei giudei. Molti giudei lessero questo cartello, Perché il luogo dove fu crocifisso Gesù, Era vicino alla città, Ed era scritto in ebraico, In latino, In greco. I sacerdoti capi dei giudei, Dissero allora a Pilato, Non lasciare scritto, Il re dei giudei, Ma scrivi, Costui disse, Sono il re dei giudei, Rispose Pilato, Ciò che ho scritto, Ho scritto. I soldati, Quando ebbero crocifisso Gesù, Presero le sue vesti, E ne fecero quattro parti, Una per ciascun soldato, E anche la tunica. Ma la tunica era senza cucitura, Tessuta dalla parte superiore, Tutta di un pezzo. Dissero dunque fra loro, Non dividiamola, Ma tiriamo a sorte di chi sarà. È così che si compì la scrittura, Che aveva detto, Si sono spartite fra loro le mie vesti, E per il mio vestito, Hanno tirato la sorte. Queste cose fecero i soldati. Vicino alla croce di Gesù, Stavano sua madre, E la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, E Maria Maddalena. Gesù dunque, Vista la madre, E presso di lei il discepolo che amava, Disse alla madre, Donna, Ecco tuo figlio. Quindi disse al discepolo, Ecco tua madre. E da quell'ora, Il discepolo, L'ha presa in casa sua. Dopo ciò, Sapendo Gesù, Che già tutto era compiuto, Affinché si adempisse la scrittura, Disse, O sete. C'era là un vaso pieno di aceto. Fissata dunque una spugna, Imbevuta di aceto, A un ramo di isopo, Glielo accostarono alla bocca. Quando ebbe preso l'aceto, Gesù disse, Tutto è compiuto. E chinato il capo, Rese lo spirito. I giudei, Siccome era giorno di preparazione, Perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato, Quel giorno di sabato era infatti solenne, Chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe, E venissero rimossi. Vennero dunque i soldati, E spezzarono le gambe del primo e dell'altro, Che erano stati crocifissi con lui. Venuti da Gesù, Siccome lo videro già morto, Non gli spezzarono le gambe, Ma uno dei soldati, Con un colpo di lancia, Gli trafisse il fianco, E ne uscì subito sangue ed acqua. Colui che ha visto ha testimoniato, E la sua testimonianza è verace, Ed egli sa che dice il vero, Affinché anche voi crediate. Questo avvenne infatti, Affinché si adempisse la scrittura, Non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice, Guarderanno a colui che hanno trafitto. Dopo questo, Giuseppe di Arimatea, Che era discepolo di Gesù, Ma segreto per paura dei giudei, Chiese a Pilato di togliere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Venne dunque e tolse il suo corpo. Venne anche Nicodemo, Il quale già prima era andato da lui di notte, Portando una mistura di mirra e di aloe di circa cento libri. Presero dunque il corpo di Gesù, E lo avvolsero con bende assieme agli aromi, Secondo l'usanza di seppellire dei giudei. Nel luogo in cui fu crocifisso c'era un orto, E nell'orto un sepolcro nuovo, In cui non era ancora stato posto nessuno. Là, A causa della preparazione dei giudei, Dato che il sepolcro era vicino, Deposero Gesù. Il primo giorno della settimana, Maria Maddalena si recò di buon mattino al sepolcro, Mentre era ancora buio, E vide la pietra rimossa dal sepolcro. Corse allora, E andò da Simon Pietro, E dall'altro discepolo che Gesù amava, E disse loro, Hanno portato via il Signore, E non sappiamo dove l'abbiano posto. Partì dunque Pietro, E anche l'altro discepolo, E si avviarono verso il sepolcro. Correvano ambedue insieme, Ma l'altro discepolo precedette Pietro nella corsa, E arrivò primo al sepolcro. Chinatosi, Vide le bende che giacevano distese, Tuttavia non entrò. Arrivò poi anche Simon Pietro che lo seguiva, Ed entrò nel sepolcro. Vide le bende che giacevano distese, E il sudario che era sopra il capo. Essa non stava assieme alle bende, Ma a parte, Ripiegato in un angolo. Allora entrò anche l'altro discepolo, Che era arrivato per primo al sepolcro, E vide, E credette. Non avevano infatti ancora capito la scrittura, Che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono a casa. Maria invece era rimasta presso il sepolcro, Fuori, In pianto. Mentre piangeva, Si chinò verso il sepolcro, E vide due angeli bianco vestiti, Seduti. Uno in corrispondenza del capo, E l'altro dei piedi, Dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero, Donna, Perché piangi? Rispose loro, Hanno portato via il mio Signore, E non so dove l'abbiano posto. Detto ciò, Si voltò indietro, E vide Gesù che stava lì, Ma non sapeva che era Gesù. Egli le disse, Donna, Perché piangi? Chi cerchi? Quella, Pensando che fosse l'ortolano, Rispose, Signore, Se lo hai portato via tu, Dimmi dove lo hai posto, E io andrò a prenderlo. Le disse Gesù, Maria. Quella, Voltatasi, Gli disse in ebraico, Rabbuni, Che significa maestro. Gesù le disse, Non mi trattenere, Perché non sono ancora salito al Padre. Va piuttosto dai miei fratelli, E di loro. Salgo al Padre mio, E Padre vostro, Al Dio mio, E Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli, Ho visto il Signore, E quanto le aveva detto. La sera di quello stesso giorno, Il primo della settimana, Mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Per paura dei giudei, Erano chiuse, Venne Gesù, Stette in mezzo a loro, E disse, Pace a voi. E detto questo, Mostrò loro le mani e il fianco. Si rallegrarono i discepoli, Vedendo il Signore. Poi disse di nuovo, Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, Così, Io mando voi. Detto ciò, Soffiò su di loro, E disse loro, Ricevete lo Spirito Santo, A chi rimettete i peccati, Sono loro rimessi, A chi li ritenete, Sono ritenuti. Tommaso, Uno dei dodici, Chiamato Didimo, Non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero gli altri discepoli, Abbiamo visto il Signore. Ma egli rispose loro, Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, E non metto il mio dito nel segno dei chiodi, E non metto la mia mano nel suo fianco, Non crederò. Otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, E Tommaso stava con loro. Viene Gesù a porte chiuse, Stette in mezzo a loro e disse, Pace a voi. Poi disse a Tommaso, Metti il tuo dito qui, E guarda le mie mani. Forgi la tua mano e mettila nel mio fianco, E non essere più incredulo, Ma credente. Rispose Tommaso, E gli disse, Signore mio, E Dio mio, Gli disse Gesù, Perché mi hai visto e hai creduto? Beati coloro che hanno creduto senza vedere. Gesù, in presenza dei discepoli, Fece ancora molti altri segni Che non sono scritti in questo libro. Questi sono stati scritti Affinché crediate che Gesù è il Cristo, Il figlio di Dio, E credendo, Abbiate la vita nel suo nome. In seguito Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò nel modo seguente. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, I figli di Zebedeo E due altri discepoli. Simon Pietro disse loro, Vado a pescare. Gli dissero, Veniamo anche noi con te. Uscirono, Salirono sulla barca, E in quella notte non presero nulla. Sul far del giorno, Gesù stette sulla riva, Ma i discepoli non sapevano che era Gesù. Disse loro Gesù, Figlioli, Non avete qualcosa da mangiare? Gli risposero, No. Egli disse loro, Gettate la rete dalla parte destra della barca E ne troverete. La gettarono, E non erano più capaci di tirarla su, Tanti erano i pesci. Allora, Quel discepolo che Gesù amava, Disse a Pietro, È il Signore. Simon Pietro, Udito che era il Signore, Indossò la veste, Poiché era nudo, E si gettò nel mare. Gli altri discepoli andarono con la barca, Poiché non erano lontani da terra, Se non circa duecento cubiti, Trascinando la rete dei pesci. Appena scesi a terra, Videro della brace con sopra pesce e pane. Disse loro Gesù, Portate dei pesci che avete preso ora. Salì Simon Pietro e trasse la rete a riva, Piena di centocinquantatré grossi pesci. E sebbene fossero tanti, La rete non si ruppe. Disse loro Gesù, Venite a fare colazione. Nessuno però dei discepoli osava domandargli, Tu chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù si avvicinò, Prese il pane, Lo diede a loro, E ugualmente il pesce. Questa fu la terza volta, Che Gesù si manifestò ai discepoli, Rissuscitato dai morti. Quando ebbero finito la colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, Mi ami tu più di costoro? Gli risponde, Sì, Signore, Tu sai che ti amo. Gli disse, Pasci i miei agnelli. Gli ripetè una seconda volta, Simone di Giovanni, Mi ami tu? Gli rispose, Sì, Signore, Tu sai che ti amo. Gli disse, Pasci le mie pecore. Gli domandò una terza volta, Simone di Giovanni, Mi ami? Si rattristò Pietro perché Gli aveva detto per la terza volta, Mi ami tu? E gli rispose, Signore, Tu sai tutto, Tu conosci che ti amo. Gli disse, Pasci le mie pecore. In verità, in verità ti dico, Quando eri giovane, Ti annodavi da te la cintura E andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, Stenderai le tue mani E un altro ti annoderà la cintura E ti condurrà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare Con quale morte Avrebbe glorificato Dio. Dopo queste parole, Gli disse, Seguimi. Pietro, Voltatosi, Vide che li seguiva il discepolo Che Gesù amava, Quello che era adagiato Durante la cena vicino a lui E aveva detto, Signore, Chi è colui che ti tradisce? Vistolo dunque, Pietro disse a Gesù, Signore, E lui? Gesù gli rispose, Se voglio che lui rimanga Finché io venga, Che te ne importa? Tu seguimi. Si sparse perciò tra i fratelli La voce che quel discepolo Non sarebbe morto. Gesù però Non gli aveva detto Che non sarebbe morto, Ma Se voglio che lui rimanga Finché io venga, Che te ne importa? Questo è il discepolo Che rende testimonianza Di queste cose E che le ha scritte E sappiamo che la sua testimonianza È veridica. Ci sono anche molte altre cose Che Gesù fece. Se si scrivessero a una a una, Penso che non basterebbe Il mondo intero A contenere i libri Che si dovrebbero scrivere. Il mondo intero Grazie a tutti